benvenuti nel mio canale se non sei iscritto iscriviti su youtube facebook e instagram se credi che questo contenuto possa aiutare anche i tuoi cari un'amica o un amico condividi sui social e taggali l'auricularia è un fungo parassita del legno possiede proprietà medicinali e risulta molto efficace per prevenire combattere le patologie e disturbi del sistema circolatorio e gli squilibri di liquidi e zuccheri nel sangue migliorando la metabolizzazione di queste sostanze nella medicina cinese è usato per curare patologie gastrointestinali per l'angina pectoris e per prevenire l'infarto fa bene perché ha un notevole contenuto di minerali vitamine del gruppo b e provitamina d ricca di carotenoidi calcio ferro fosforo magnesio silicio potassio rame adenosina lecitina e cefalina perché introdurlo nella nostra alimentazione previene l'infarto e previene l'invecchiamento e varie malattie rende inoltre il sangue più fluido rinforza le vene capillari e abbassa il colesterolo e la glicemia e aiuta soprattutto a controllare il peso come si assume si può trovare sotto forma di un fungo essiccato o in compresse per trattamenti di prevenzione delle patologie o di dimagrimento si consiglia una compressa tre volte al giorno ai pasti principali con un bicchiere d'acqua per un trattamento più intensivo per esempio in caso di fragilità dei vasi sanquigni si possono assumere due compresse ad ogni pasto è bene non esagerare con le quantità ma limitandosi alle dosi indicate per non avere effetti indesiderati se si devono affrontare interventi chirurgici o si assumono farmaci o si hanno problemi di coagulazione è sempre corretto chiedere l'opinione di un medico di fiducia se il video ti è piaciuto metti un mi piace scrivimi i tuoi risultati ci vediamo nel prossimo video